Eccoci, siamo in diretta da Il Quartiere a Saluzzo per la terza edizione della festa del libro medievale e antico. Iniziamo subito con un'intervista a tre soci, le nostre prime tre ospiti dell'Associazione Culturale dal segno alla scrittura. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Grazie di averci invitati. Grazie a voi per appunto aver accettato l'invito. Inizio subito a chiedervi chi siete e di cosa vi occupate. Siamo tre soci storiche della nostra associazione dal segno alla scrittura, facciamo parte anche del direttivo e ci occupiamo di organizzare i corsi, di insegnare anche tutto quello che fa parte di un'associazione, quindi anche dall'organizzazione in toto. Perfetto, avvicina poi solo un po' più il microfono così ci sentiamo un po' meglio anche da casa, ma ci siamo. Allora, prima di perdercelo, ragioniamo anche un po' dei luoghi, nel senso che voi oggi siete qui alla festa del libro antico e medievale di Saluzzo, ma altrimenti, insomma, dove siete operativi? La nostra sede è a Torino. Siamo presso la scuola Lorenzo il Magnifico, perché ha cambiato nome, e in Corso Matteotti, a Torino, vicino a Porta Nuova in sostanza. E oramai è da anni che abbiamo questa sede, il preside della scuola ci lascia in dotazione un'aula, uno spazio, per poter riuscire a fare questi corsi di calligrafia, ai quali partecipano persone di tutta l'età, dai giovanissimi a persone in pensione, a insegnanti, ex insegnanti, grafici anche. Quindi, se qualcuno all'ascolto fosse interessato, vi può assolutamente contattare? Sul nostro sito, assolutamente, trova tutte quante le indicazioni indispensabili. Ci puoi ricordare il nome del sito, così magari qualcuno può cercarlo? www.segnoscrittura.com Perfetto. Anche se scriviamo da cani, come scrivo io, volendo, mi posso... Facciamo anche i corsi per scrivere meglio. Questo è molto interessante, perché effettivamente, magari non avere appunto una grafia particolarmente bella, però imparare anche a scrivere bene è un'arte importante. Scrivere abbastanza bene da capire quello che tu stesso hai scritto più tardi potrebbe essere un obiettivo da raggiungere. Prendere a leggere quello che hai scritto più che altro, ma toglieteci un dubbio. Qual è la differenza fra grafia e calligrafia? Perché spesso ci si confonde fra questi due termini. In realtà ci si confonde molto tra calligrafia e grafologia, perché molte persone confondono queste due cose. Calligrafia è la bella scrittura, quindi lo scrivere bene. Invece la grafologia è lo studio del carattere in base alla propria scrittura. Quindi solitamente fanno sempre un po' questa confusione. Certo, però spesso si sente anche dire, ah, che bella calligrafia. Però in realtà è un doppione. Esatto, perché già calligrafia sta appunto per bella scrittura. Esatto. Proprio come esempio di bella grafia e di calligrafia. Ecco, quella che sta facendo Delia. Esatto. Ci sta facendo un segnalibro personalizzato con scritto proprio RBR. Forse è nuovo. Ve lo facciamo vedere. Sì, non è comodissima nello scrivere in questo momento. Immagino che in genere non lo faccia sugli capelli. Ma comunque scrive meglio di me Alessio anche sopra una sedia, quindi non c'è nessun problema. Anzi, vi ringraziamo. Ecco, noi utilizziamo i pennini, gli inchiostri, quindi si ritorna un pochino indietro nel tempo, insomma. Infatti proprio questo volevo dire perché, insomma, è intuitivo il motivo per cui chi si occupa di calligrafia possa essere ospite qui. Però ragioniamoci un attimo sopra, nel senso che, ce lo dicevamo proprio fuori onde, io e Giulia, quali sono già i motivi che nei manuali di storia vengono citati come fine del Medioevo? Tra questi c'è l'invenzione della stampa, sostanzialmente, quindi invece la scrittura a mano, la bella scrittura a mano, è invece un filo che ci porta indietro a chissà quanto. La paura che ci fu all'epoca dei calligrafi, quando arrivò la stampa che fu alla portata di tutti, fu proprio quella di dire ecco ci sarà la stampa, adesso nessuno più scriverà. Quando è arrivato il computer la stessa cosa, in realtà si continua a scrivere tranquillamente, anzi, noi consigliamo proprio di imparare a scrivere perché avere una scrittura, un ordine calligrafico ti dà la possibilità di avere anche le idee più chiare. Non so, diciamo che oramai anche nelle scuole insomma non si prendono più gli appunti come una volta. E noi insegniamo un pochino, ma va bene, noi facciamo uno studio storico delle calligrafie occidentali, non andiamo nelle cose orientali, ma poi non ci appartengono come cultura. Aggiungo solo una cosa velocissima, scrivere in corsivo poi fa molto bene al cervello. Nel momento in cui uno inizia a prendere una penna e scrivere in corsivo è come se il cervello iniziasse a fare ginnastica. Infatti io tengo anche un corso all'Università della Terza Età di San Mauro, dove ho ben 35 persone che vengono di tutte le età e mi dicono che stanno tutte meglio. Addirittura, quindi scrivere bene fa appunto bene anche alla salute. Questo è importante perché appunto spesso non ci si pensa, invece... Ecco, invece ve lo posso garantire. Tra l'altro, poco fa ho confessato io di scrivere molto male e devo confessare che non so più scrivere in corsivo. Se ci provo, lo usavo chiaramente all'elementare e media, quindi dovrei rimparare anche quello, mi dite? E' solo con una penna stilografica. Quella forse in mano non l'ho mai avuta, la penna stilografica, questo forse è un altro discorso. Penna gel, va bene. Forse una penna gel. Forse ce l'hai, Ale. Ma prima di far vedere il bellissimo lavoro che avete fatto, appunto, scrivendo tra l'altro proprio RBE, voi sarete qui presenti con il vostro banchetto anche domani. Quindi se qualcuno è interessato appunto a prendere parte a questi laboratori di calligrafia, come può fare? Basta passare da noi e ci lascia il nominativo. A che ora sarà il corso? Alle tre e mezza. Alle tre e mezza. Quindi anche domani, domenica 22, nella biblioteca. Però basta passare da noi e lasciare il nominativo. E fate degli esercizi, insomma, per imparare un pochino a scrivere meglio. Lasceremo una piccola dispensa a chi partecipa, in modo, insomma, che si porti qualcosa a casa, le cose che farà. Certo, adesso possiamo guardare quello che hanno scritto. Sì, io quasi non oso prenderli in mano. Addirittura. Allora, questo è... Ti facciamo vedere alla telecamera. Alla camera, dici, questo qua, eccoci. Bellissimo. Abbiamo RBE, radio e TV e lentamente. Esatto. Beh, perché bisogna andare un po' lenti per scrivere bene, immagino. Assolutamente sì. Scrivere veloce e bene, penso che sia la prima lezione. Porteremo questi souvenir nella nostra radio e ci ricorderemo per sempre di questa bellissima intervista. Sicuramente li apprenderemo. Grazie a voi. Grazie mille, allora. Grazie per essere stati con noi. Vi lasciamo al vostro banchetto, grazie davvero. Noi andiamo verso un po' di musica e ci risentiamo tra poco.